La fontana della barcaccia di Roma, ubicata a Piazza di Spagna, sarebbe piena di alghe e di sporcizia. Questo è il grido d'allarme che mi sento di lanciare in data odierna, 26 maggio 2018. Piazza di Spagna, una delle piazze probabilmente più famose del mondo, che ha al suo interno questa fontana, che si può tranquillamente vedere e che è una delle fontane probabilmente più caratteristiche di tutta la capitale. Ma purtroppo la fontana in questione, fontana della barcaccia, sarebbe ridotta a un cumulo di sporcizia e di alghe che purtroppo si vedrebbero. Ecco, e anche infatti molti turisti, venendo a Roma e visitando la piazza in questione, non hanno potuto far a meno che constatare, rendersi conto che la fontana in questione sarebbe invasa da alghe e da sporcizia varia, diffusa per la maggior parte della fontana in questione. Che dire, una storia ha una maggiore situazione, non proprio delle più edificanti, quella di questa straordinaria fontana, che da anni colpisce e lascia soddisfatti migliaia di turisti di tutto il mondo, che vengono a visitare Roma con la speranza di trovare una città pulita, bella e affascinante. È sicuramente una bella città Roma, affascinante, pulita e bella, ma in questo caso qui, come ho detto in questo video di oggi, la fontana in questione sarebbe piena di alghe e di sporcizia. Da narratore italiano è tutto, questo sarebbe quanto, un chiaro saluto, ho utilizzato in modo condizionale perché non voglio avere problemi di sorta. Io mi sono interfacciato a quello che è presente nel web, 26 maggio 2018, a Roma. Saluti, iscrivetevi e al prossimo video.